Dall'1 al 31 agosto, la linea M2 è interrotta tra le stazioni di Udine e Loreto per potenziare l'infrastruttura. Per limitare i disagi, abbiamo predisposto bus sostitutivi tra le stazioni di Udine, Lambrate, Piola e Loreto e bus non-stop express tra Cascina Gobba e Loreto. Stiamo lavorando per impermeabilizzare le gallerie dalla falda. Investiamo sulla M2 per migliorare il servizio. Grazie a tutti.